La nonna dice che prega sempre per te. In serio Nina, quanto pensi di andare avanti? Non è solo per i soldi che lo fai, vero? Senta, non è che ci siamo già visti da qualche parte, direi? Perché mi sembra una faccia conosciuta. Forse in una cassetta. Io faccio film porno. Sì, è vero, non è solo per i soldi. Mi piace. Non è neanche tanto una questione di sesso. Mi piace anche quello, ma un'altra cosa. È che io so che quando gli uomini mi guardano, hanno paura di me. Ma mi desiderano. Sono io che li possiedo. È una questione di potere. Ma tu hai idea di che cosa sto parlando, mamma? Ho paura di sì.